Questa piazza dove ci troviamo ora è molto legata allo sviluppo cittadino della nuova Salisburgo. Torniamo indietro nell'anno 1887. C'era un banchiere privato di nome Karl Leitner che aveva piani molto ambiziosi per Salisburgo. Dietro di me, qui sulla parete della montagna, si vedono ancora oggi i relitti del vecchio ascensore all'aperto. Karl Leitner aveva una visione. La piazza lassù ha una magnifica vista su tutta la città di Salisburgo. Voleva costruire là in alto un esclusivo quartiere di villette. Che cosa serve per farlo? Servono innanzitutto corrente e acqua. L'elettricità fu prodotta allora per la prima volta in Markadplatz. A questo proposito l'app vi racconterà una storia durante il tour della parte destra della città. Qui egli costruì la prima centrale termoelettrica della monarchia austro-ungarica. Ha portato qui la corrente ed è sorto il primo ascensore all'aperto d'Europa. E questo vecchio ascensore portava in alto di 60 metri. In cima, inoltre, costruì un caffè che fu chiamato fin da subito caffè ascensore elettrico, perché l'elettricità era una cosa particolarissima all'epoca. Ora, per realizzare i suoi piani, gli serviva ancora l'acqua. La pressione dell'acqua dai comuni serbatoi della città era troppo bassa, quindi costruì anche un'altra torre panoramica che fungeva al contempo da serbatoio d'acqua. Tante innovazioni, tante novità per Salisburgo. Nei primi cinque mesi di esistenza, un totale di 70.000 persone salì là sopra con l'ascensore. Purtroppo si mise in mezzo la crisi economica e di tutti questi piani del famoso Karl Leitner non ne fu poi niente. L'ascensore fu spostato all'interno della montagna solo nel 1947. Dovete assolutamente salire. La vista è ancora spettacolare. E poi ci sono un fantastico caffè, un ottimo ristorante e il Museo de Amodeane, che merita certamente una visita. Proprio dietro di me, la Republique, è anche questo un posto dove ci si ritrova. Dopo si può gustare una buona colazione e un buon pranzo. La sera si tengono spesso dei bei spettacoli. Date un'occhiata dentro il programma del giorno. Ne vale veramente la pena. Qui troviamo di nuovo un pezzo dell'Alm Canal. Proprio qui, dove mi trovo adesso, lo si vede scorrere. L'acqua potabile di fontane, come il Marienbrunnen qui in piazza, doveva essere trasportata fino al piano in alto, un vero lavoro di gamba e di braccia. Ancora una particolarità. La maggior parte di queste fontane aveva alla sommità delle griglie in ferro battuto. Queste griglie, però, non servivano soltanto da decorazione, ma anche ad impedire alle persone di arrivare all'interno delle fontane perché in quasi tutte si trovano pesci vivi. Era una specie di magazzino di pesce fresco vicino a casa. Questo ramo dell'Alm Canal non ha alimentato soltanto queste fontane, ma ora climatizza la Haus der Natur, il Museo delle Scienze Naturali qui a fianco da me. Ora proseguiamo lungo la montagna e la Kstettengasse fino ad arrivare alla Blasioskirche e da lì si continua. Nächster Teil.